Ciao amici, questo sarà un episodio un po' strano, nel senso che non volevo nemmeno farlo però mi pare anche un peccato buttarvi a tutto chi mi segue su Instagram avrà visto che un mese fa ero in compagnia di persone un po' speciali presenti te stesso Ciao, mi chiamo Ethan Morgan, siamo qui in po... oh no, ok, non... siamo in la zona del dollaro top secret zone, solo noi sappiamo di questo abbiamo una squadra davvero scusa qui abbiamo Teddy Muse qui qui, è davvero artiato al momento Hillary Clinton Hillary Clinton, hallo! nooo si, era supposed to be president, ma poi Trump lo vede si, abbiamo un tornado, si sta a noi si, con il tornado? si, è sick wow a tutte le donne persone che non ho mai visto risparmiarsi e che, nonostante mille teghe, hanno tentato di far di tutto per filmare la miglior video part possibile in uscita del prossimo anno 3, 2... no 3, 2... oh my god 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 Sì 3, 2, 1 Wow So big 3, 2 Wow Oh my god, I am What the fuck 3, 2 No No Assieme a loro ho spostato metri cubi e metri cubi e metri cubi di neve a volte pure per niente, a dire il vero anche perchè con lo spot non l'abbiamo neanche fatto Ha 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 Yo Ita We got this man Holy shit, this is a big boy Alright watch out Watch out Haldor Wait Ok Seppolto Yeah Sono rimasto bloccato con loro alle 6 di sera sperando che la motoslite ci passasse a prendere per riportarci in rifugio Eh sì, in qualche modo dobbiamo pure passare il tempo Li ho visti cercare di capire in italiano cosa mai potessero mangiare la sera Ottimo cibo tra le altre cose Ok Plets Lami No 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 Ah, wienerschnitzel Toiletta Wienerschnitzel Ma soprattutto li ho visto fare cose incredibili Ready Io non so cosa dire Ready Io non crederò mai più a quello che ho visto oggi Ma neanche tra 100 anni, assurdo A casa mia poi Ma non ho parole, lo voglio tenere come ricordo Allora, quello che ho visto oggi Quello che vedrò nei prossimi giorni Quello che le persone hanno visto passando di qua Che senso ha? Non sono dei pazzi Sono delle persone letteralmente incredibili Che senza volerlo Lasciano una pagina nella storia dello snowboard Perché il loro unico scopo è divertirsi E quello che fanno Rischiando a volte la pelle Mi porta ad essere una sorta di supereroi moderni O almeno I miei supereroi Fantastico Fantastico Si ma loro ho snowboardato Vedendo albe e tramonti tutti i giorni Con loro ho guardato le olimpiadi di notte Le finali di Slopestyle In un clima di delirio E di assoluto divertimento No way All right Oh wow Yes 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 Thank you Thank you Thank you Thank you so much No Last run of the olympics What the fuck man Oh yeah front triple Yes 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 That's the winning run Red you got a win That's the winning run That was the winning run Oh my god it's not your own It's a fucking case That's not cool No Did it fall of my face though? Super Red Gerard Red Gerard Red Gerard Red Gerard Don't scream Red Gerard Thanks King that could have won the olympics Thank you Redman USA USA Gerard Thank you So smart Thank you though Redman You're safe anyway Yes Fucking man Thank you so much Redman We love you man And Snowbird love you too man Per poi vederli fare una session ignorante da quasi sbronzi in un jump ancora più super ignorante Così solo per il gusto di divertirsi e di passare una giornata tutti assieme senza pensieri Oh 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 Almost landed that somehow No way Perfect 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 Look at that The beanie What the fuck This jump is genius Oh fuck Yeah I think I'm done Thank you Thank you Fuck 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 Yo Oh Oh my god I'm so happy right now No BABY 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 Oh my god No No Welcome Oh my god that was so sick fuck yeah guys BABY 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 Poi tornare in rifugio dove tantissime persone ci aspettavano e fare tre giri tutti assieme indimenticabili è stato veramente bellissimo C'è un po di gente Com'è? E quindi anche in questo episodio è un po' strano Il mio più sincero grazie va a tutti voi A tutti quelli che c'erano con la domenica E che hanno reso quella domenica così speciale Sia per me che per loro che erano con me Grazie mille a tutti Ready? Ok? Ricazzo! Allora! Porto no! Go! Che poi alla fine c'è solo una cosa importante no? Allora figa! No! No! No future, no future for you No future, no future for you